Ciao a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi video dedicato a Chobin, il principe delle stelle, un anime in 26 episodi del 1974 tratto dall'omonimo manga dello stesso periodo a firma di Shotaro Ishinomori. È una sorta di fiaba rivisitata certo in chiave fantascientifica, ma che presenta anche tipici elementi di magia che la rendono perciò una serie per bambini molto affascinante. È la storia di Chobin, creatura aliena dalla tipica forma di palla rimbalzante che arriva sulla Terra a bordo di una capsula di emergenza, dopo che il suo pianeta Fairy Star è stato invaso dall'esercito del malvagio Brunga. In realtà Chobin è un bozzolo destinato con il passaggio all'età adulta a trasformarsi in un bellissimo principe umanoide con tanto di ali, anche se nel corso della storia non vedremo mai la sua forma adulta, ma capiremo come è destinato a diventare guardando l'aspetto dei suoi genitori. E qui i fan si sono divertiti a creare numerose fan art. Quando Chobin arriva sulla Terra viene raccolto da un anziano, un tempo astronomo, che vive nella foresta insieme a sua nipote Ruri, che svilupperà una certa tenera simpatia per Chobin, tutti elementi che verranno ripresi con dinamiche diverse in altre serie, come ad esempio Goldrake. All'inizio i due umani sono spaventati anche perché quella strana creatura non parla nemmeno la loro lingua, problema risolto grazie al magico talismano traduttore, la goccia di stella, che permette a Chobin di comunicare con qualunque essere vivente, animali compresi. E sì, devo dire che in Shotaro e Shinomori la coerenza narrativa non manca mai, cercando sempre di dare una spiegazione ai quesiti più elementari, per esempio come fa un alieno a comprendere la lingua di un terrestre, inserendo quindi elementi magici o fantascientifici che a volte mancano un po' in altre serie ben più blasonate. L'atmosfera fiabesca permea tutta la serie, soprattutto per la presenza di numerosi amici animali, diversi tra loro per carattere e peculiarità, che sanno essere anche comici e buffi. C'è l'orso, per esempio, che è il capo della foresta, che all'inizio vuole mangiarsi Chobin e che ha un coniglio come suo scagnozzo, alquanto bizzarra come cosa. La missione di Chobin, aiutato da tutti questi amici, sarà quella di sconfiggere Brunga, che ha inseguito Chobin sulla terra, ponendo la sua base nelle viscere di una montagna e inviando di volta in volta i suoi scagnozzi e i suoi cani robot per farlo fuori. Brunga vuole infatti il talismano di Chobin, che ha in sé un enorme potere, che gli consentirà di governare su Fairy Star e probabilmente sull'intero universo. Ma Chobin dovrà anche salvare sua madre, che durante la fuga era stata fatta prigioniera da Brunga. Mamma e figlio infatti si trovavano a bordo di due distinte capsule, che il padre di Chobin era riuscito a spedire nello spazio proprio poco prima di morire per mano di Brunga. E non mancano scene altamente drammatiche, nonostante si tratti di una serie per bambini. Immagini violente dell'invasione del pianeta, la scena del padre di Chobin che giace morto con le ali spezzate, ma anche quella del sacrificio di un altro ragazzo bozzolo, abitante di Fairy Star, Byuki, che giunge sulla terra per prendere a Chobin la goccia di stella, visto che il pianeta è stato militarizzato dalle forze di Brunga e solo quel potente talismano può riportare la pace. Alla fine Byuki morirà per salvare Chobin, il quale capirà di doversi assumere le proprie responsabilità di principe e di non poter solo pensare a salvare sua madre, perché c'è un pianeta intero che sta attendendo il suo ritorno. Nell'ultima battaglia Chobin riesce finalmente a distruggere Brunga, anche perché il suo talismano riesce a sprigionare il massimo della potenza, segno anche che Chobin sta diventando adulto. Ritrovata la sua mamma, Chobin ripartirà così per Fairy Star, per riportare la pace sul pianeta e salutando tra le lacrime i suoi amici terrestri. Tutto sommato una serie interessante che avvicinò con grande intelligenza i bambini alla fantascienza, fornendo anche importanti insegnamenti di vita e trasmettendo valori come il coraggio, l'amicizia, la determinazione, la forza di non arrendersi mai. Del resto Shotaro Ishinomori non delude mai. Che ne dite? Aspetto come sempre i vostri commenti e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!